In vista dell'imminente apertura del nuovo anno scolastico sono in corso i sopralluoghi negli istituti della provincia di Campobasso per evitare spiacevoli disagi. Sono al vaglio soluzioni alla chiusura del liceo classico di Guglionesi. L'ufficio scolastico regionale ha avviato il monitoraggio per accertare eventuali criticità agli edifici didattici a poche settimane dal suono della prima campanella. In queste ore il provveditorato di via Garibaldi è a contatto continuo con la prefettura di Campobasso e con i sindaci per i necessari riscontri su aule, palestre e lavoratori. Le verifiche tecniche sono ancora in corso. Nel paese di Monte Cilfone gli sfollati sono stati ospitati nella scuola. Una struttura antisismica rispettosa dei parametri previsti dalle norme vigenti in fatto di sicurezza. Verrà chiusa invece la sede del liceo classico di Guglionesi. Occorrerà trovare presto diversa sistemazione per i circa 350 studenti, visto che il nuovo anno scolastico è alle porte. L'ufficio regionale ricorda alla classe politica locale la necessità di interventi in materia di edilizia scolastica programmati nel tempo per evitare dolorose tragedie come accaduto in passato a San Giuliano di Puglia I e l'Aquila alcuni anni dopo.